Ciao a tutti ragazzi, siamo nel pre-partita, già dato che c'è un'infrasettimanale penultima giornata di Serie A prima della pausa mondiale. Oggi accontentiamo un po' quelli che dicono che faccio video troppo lunghi e che devo accorciare perché non hanno tempo a disposizione, perché la conferenza stampa di Allegri è durata un battito di ciglia. Io non ricordo una conferenza così veloce nella mia vita, forse avevamo fretta, avevamo fretta di andare a pranzo. Anch'io ho un certo rangorino, quindi vabbè, raccontiamocela insieme, poi andiamo a pranzo tutti insieme. Prima di tutto, come al solito, vi chiedo di lasciare un mi piace a questo video mentre il gatto si stira davanti alla telecamera, come al solito, e qui sotto in descrizione potrete scaricare anche il numero di S, perché domani sera il post-partita di Allas Verona a Juventus non sarà sul canale YouTube, ma sarà sul numero di S sul canale YouTube. Poi avremo un altro contenuto di un'altra tipologia, quindi vi aspetto comunque qui sul canale YouTube, ma il post-partita vero e proprio invece sarà sul numero di S. Scaricatelo gratuitamente dal link che trovate qui sotto in descrizione. E allora iniziamo. Allegri dice, la vittoria con l'Inter ha lasciato una serata di soddisfazione e gioia, ma abbiamo ormai già chiuso il capitolo e stiamo già pensando ai prossimi impegni. E questa è la mentalità giusta. Sono stato contento che Allegri nel post-partita abbia detto, post-partita immediato dell'Inter abbia detto, abbiamo già la testa giovedì, perché è un po' quello che vi dicevo anch'io nel post-partita. Il Verone delle ultime partite è stata bestia nera della Juve, l'anno scorso noi ci abbiamo perso anche in casa nostra, ricorderete, anzi no, forse eravamo là con la doppietta di Simeone. In campionato Crea, soprattutto in casa, con buoni tiratori di palle inattive. Ci abbiamo perso col Sassuolo in casa nostra, nella stessa settimana. Settimana di Halloween, proprio precisa precisa. Come al solito, il solito ritorno di Allegri. Non sarà una partita semplice contro una squadra complicata, che non merita la classifica che ha, dobbiamo metterci pari a loro dal punto di vista fisico. Questo ormai è un mantra di Allegri, un sempreverde di Allegri. Lo abbiamo sentito, credo, in ogni singola conferenza stampa dal suo ritorno alla Juventus. Quindi continua questa cosa. Dice, domani giocherà Perin, Scesni ha già fatto tante partite consecutive, quindi un po' di riposo. Oggi dovrò valutare invece gli altri giocatori. I recuperati sicuri al 100% sono Paredes e Moise Ken, ma non è detto che giochino. Di Maria da valutare, perché non credo che abbia 90 minuti nelle gambe, e anzi, probabilmente ne avrà circa una trentina, una mezz'ora. Da valutare ci sono anche Vlaovic e McKennie, così come Chiesa. Ora, io non ho capito se quindi Chiesa potrebbe addirittura non essere disponibile. Credo di sì, perché se dice da valutare, probabilmente si valuta la convocazione di Federico Chiesa, poi risponderà un po' più avanti. Poi c'è una bella domanda di Romeo, inerente al capitano, si riferiva al capitano l'altra sera, perché dice Danilo, l'altra sera era capitano perché, e Allegri dice, doveva essere Quadrado, dopo Bonucci nelle gerarchie è così, ma ultimamente era troppo nervoso, sentiva troppa responsabilità. Così ci ho parlato, e ho deciso di fare capitano Danilo. Juan è quindi stato più tranquillo e sereno. Anche Alexandro era d'accordo, perché gerarchicamente, dopo Bonucci e Quadrado, c'è Alexandro, era d'accordo della fascia Danilo. Il capitano, quando gioca, rimane Bonucci. Questa è una curiosità abbastanza grossa, ce ne eravamo accorti già nella live reaction, a inizio partita con l'Inter. Allegri ha spiegato il perché, non ho idea di come abbia approcciato il discorso con Quadrado, perché secondo me è un discorso un po' scomodo da fare, però solitamente è l'allenatore che decide capitano, vicecapitano, quindi rientra comunque nella sfera decisionale dell'allenatore di Allegri. Vlaovic e Chiese insieme potranno essere, in futuro, in ipotesi, perché per ora è impossibile. Domani c'è il Verona e faremo una partita fisica, emotiva, tecnica, ma soprattutto grande, perché senza una vittoria domani buttiamo i risultati di Inter e i risultati precedenti. Le ultime cinque partite a Verona e Juventus ha perso a tre volte. Questa è un voler rimanere concentrati, ci sta a non voler parlare oggi di Vlaovic e Chiesa, domani c'è una partita molto molto importante, anche visto comunque il Milan che ha perso altri due punti ieri sera in una partita sulla carta facile, no? Perché la Cremonese non doveva essere chissà quale avversario per il Milan, così come non dovrebbe essere la Las Verona, aggiungo io, e quindi dobbiamo cercare di rimanere su quale fa la Sarigari per recuperare qualche punto ai rossoneri e a qualche altra squadra, preparandoci poi eventualmente a uno scontro diretto con la Lazio, tanto che siamo molto molto vicini. Poi Allegri qua, siccome fa un po' di confusione perché dice Vlaovic soffre di questa infiammazione tendinia o pubalgica, chiamatela come volete, non ho idea a questo punto di che cosa possa avere Vlaovic, non lo so, chiedo magari un po' più esperti dal punto di vista fisico, non ho mai sofferto di pubalgia, non so se è un'infiammazione tendinia, tendinia, non ne ho la più palida idea, sono ignorante sotto questo punto di vista, ma non rientra nel mio campo di competenza. Se ha a disposizione un bene per la Juve, altrimenti si curerà e vedremo per domenica, quindi con la Lazio. Poi dice Chiesa è rientrato, ha fatto bene, ma finché il ginocchio non si trova stabilità è un problema, un conto sugli allenamenti, un altro sulle partite. E questo, indubbiamente, io sto soffrendo di fastidia il ginocchio da un annetto a questa parte, ovviamente non è un'importante operazione come quella che ha subito Chiesa, però capisco che in questo momento debba recuperare un attimo, però dice una cosa che poi mi preoccupa, cioè a volte ha un po' fastidio, ma fa parte del percorso reeducativo in campo, perché questo fastidio era quello che gli aveva, l'aveva ostacolato dal ritorno in campo in tempi brevi, quindi spero che non sia tornato fuori quel fastidio in particolare, quel gonfiore, dovevano togliergli un po' di liquido, il ginocchio si gonfiava, quindi spero che non sia la stessa cosa anche qua, però sono ignorante, quindi mi fermo a quelle che sono le parole della natura che immagino vado a riportare le parole dei medici della Juventus. Poi parla di Manzuki, ci dice Manzuki, ci ha detto una frase da scolpire, quando si gioca non si pensa a far gol ma a vincere il partito, beh, soprattutto a questi livelli, certo che sì, ovvio che sì, deve essere così, perché gli hanno fatto una domanda su un'ipotetica rincorsa a Scudetto, anche qua mi è piaciuto Allegri che non è andato a fare voli di chissà che tipo, perché io voglio che passi il messaggio abbiamo battuto l'Inter, ma diventa una cosa importante perché non avevamo ancora battuto l'Inter, anzi, una big in campionato dal ritorno in panchina di Allegri, quindi tutto l'anno scorso senza mai vincere uno sconto diretto e quest'anno dove non avevamo ancora vinto uno sconto diretto, ma sono tre punti, cioè voglio che torni ad essere un concetto di tranquillità, di semplicità, di normalità, lo dicevo nel post partita e quindi mi piace questa linea di Allegri che anche perché pensare allo Scudetto oggi è follia, c'è solo un follo oggi potrebbe parlarmi di Scudetto, poi magari succederà più avanti, magari le cose cambieranno, non il mio idea, ma oggi parlare di Scudetto è una follia, cioè non dimentichiamoci chi siamo, da dove veniamo, cosa abbiamo fatto fino a un mese fa, che cosa c'è successo, non dimentichiamoci le est, le cose, siamo una squadra che continua a avere dei problemi, continua a avere dei limiti, continua a avere tante cose che non vanno e vanno sistemate e una classifica che oggi non ti può far parlare di Scudetto, poi Allegri dice il Napoli se continua così sarà inavvicinabile per tutti, sono d'accordo perché il Napoli in questo momento è clamoroso, ora pensiamo a Verone e Alassio, assolutamente, assolutamente, un passettino alla volta non c'è bisogno di guardare nient'altro, anche perché poi ribadisco c'è un mondiale di mezzo e quel mondiale lì può cambiare tutto, può cambiare veramente tutto, poi dice Milik si è messo a disposizione, è in condizione, ora magari nel momento in cui non fa gol ma capita a tutti gli attaccanti, poi dice, spiega un po' quella che sarà l'idea della pausa nazionale, poi non so se ci saranno modifiche appunto allo staff che possa comprendere anche lo stesso allenatore però hanno già buttato su un piano di lavoro quindi secondo me in questa risposta Allegri dato che c'è un piano di lavoro va a confermare la sua conferma in panchina, scusate il gioco di parole ma dovrebbe essere una roba di questo tipo, vedremo se poi cambierà qualcosa, non ho idea, io ribadisco, post Monza mi sembrava una necessità, ho detto vediamo come va tra due mesi, abbiamo la possibilità almeno di riadrezzare la classifica in Serie A dopo un grosso fallimento europeo che non può essere dimenticato vediamo dice post lastro lavoreremo fino al 18 con chi rimarrà il 6 renderemo tutti anche i nazionali italiani che hanno degli amichevoli in programma poi faremo una preparazione fino al 22-23 con degli amichevoli aspettando anche gli altri eliminati dal mondiale poi fanno una domanda su Fagioli chiedendogli dove lo vede bene sia secondo lui davanti alla difesa o se qualche metro più avanti io ribadisco secondo me Fagioli non deve giocare davanti alla difesa è una mezzale di costruzione e forse anche un po' più offensivo un po' più offensivo addirittura secondo me può fare bene anche la trequartista però Allegri non risponde alla domanda del posizionamento in campo dice quello che gli parla a lui come al solito come inutile come al solito e dice Fagioli sta facendo bene lasciamolo sereno ma nessuno l'ha tantugnato nessuno l'ha tormentato è una domanda puramente di preferenze all'interno del campo lasciamolo sereno vabbè lasciamolo sereno sta facendo bene così come Miretti che ha già fatto una ventina di partite con la Juventus prima squadra che è che questa è una cosa che non gli era chiesta però ci saranno momenti in cui dovrà recuperare Fagioli poi magari giocherà anche domani beh io mi auguro che giochi domani cioè io mi auguro che ci possano essere dei giocatori in grado di rifiatare lo stesso Milik secondo me deve rifiatare e se Ken sta bene mi aspetto Ken dal primo minuto con magari Milik pronto a subentrare mi aspetto che Quadrado possa recuperare un attimo fiato ma chi ci metti in quella posizione a meno che tu non vada a puntare su Barbieri quinto di centrocampo a destra è un problema o si responsabilizza un giocatore dell'Under o sul mercato bisogna intervenire anche a costo di sacrificare uno come McKennie che magari in questo momento è uno dei più sacrificabili in assoluto per utilità e per valore del cartellino quindi secondo me se c'è la possibilità di cedere McKennie per un esterno destro a gennaio va fatta questa cosa a meno che ribadiscono se voglia tirare su un ragazzo delle giovanili che si considera pronto magari lo stesso Barbieri che anche l'altra sera ha fatto l'esordi in Champions con il PSG poi chi altri credo che possa tornare Bonucci per fare questa partita qua secondo me domani ci sarà un po' di cambio in giro soprattutto magari a centrocampo dove vedremo anche se Paredes avrà recuperato se sarà disponibile però non vorrei cercare di forzare troppo cioè non vorrei troppo turnover perché secondo me le due partite con PSG e Inter non dico che abbiano dato la svolta perché di svolta io vi parlerò quando saremo eventualmente in posizioni veramente competenti per la Juventus idonee per la Juventus prima sono soltanto magari passettini che vengano fatti ricerca di continuità ma di svolta non voglio parlarne non voglio parlarne perché sarebbe ridicolo parlare di svolta con la Juventus al quinto posto in Serie A la svolta ce l'è quando torni ad essere una squadra che lotta veramente per le primissime posizioni che significa o campionato o giù di lì perché se no non è una stagione da Juventus e quindi un principio di continuità e la darei a questi calciatori che hanno comunque ben figurato in campo col PSG e hanno fatto un grande secondo tempo con l'Inter dopo un primo tempo abbastanza brutto mi piacerebbe rivedere anche Gatti sono sincero perché secondo me Gatti era in crescita tra Lecce e PSG stava facendo due buone prestazioni che lo avvicinavano un po' agli standard della Serie A non magari difensore livello Juve ma sono partite in crescendo che deve fare e questo cosa avrà fatto 3-4 partite in Serie A quindi è logico che non possa tirare fuori le prestazioni di Cannavaro post mondiale 2006 no non può farlo per forza di cose però deve trovarle queste partite in queste partite la continuità di rendimento l'abitudine a dei livelli superiori ai quali non aveva mai giocato quindi secondo me questo è il binario da seguire questo 3-5-2 ribadisco gli esterni Kostic e Quadrado per forzature dovranno giocare perché chi ci metti al loro posto sperando anche che possa esserci magari un trequartista in più eventualmente per aiutarmi Miretti che ne so davvero Miretti fagioli dietro Ken o addirittura Sule mi piacerebbe vedere anche Sule magari un turno di riposo per Miretti quindi fagioli sul centro-sinistra su Lecce centro-destra con Ken davanti quindi secondo me qualche opportunità anche magari per far rifiatare Rabiot o per far rifiatare Locatelli se sta bene Paredes ce l'hai ce l'hai in assoluto dato che stai recuperando i giocatori dietro Bonucci e Gatti potrebbero far rifiatare Danilo e Bremer in caso di necessità o Alexandro magari spostando Bremer o Danilo sul centro-sinistra anche se è più Danilo che Bremer in porta appunto gioca per in domani mi aspetto qualcuno qualcuno di qualche volto nuovo qualche volto solito che riposa ma non tutta questa roba termino con parlare di Di Maria e Paredes che sono a disposizione attenzione ricorderete quella fake news smascherata da Di Maria che diceva no noi con la Lazio non chiederemo di non giocare per il discorso mondiale no noi ci saremo e quindi monitoriamo questa cosa perché dato che l'Elas Verona è la partita immediatamente presente a quella con la Lazio vediamo un attimo cosa succede se quella sarà una fake news effettivamente oppure no ragazzi un abbraccio cerchiamo di vivere su questo binario del ragioniamo partita dopo partita poi vediamo come va vediamo che cosa cambia sicuramente oggi la classifica è un po' più bella rispetto a una settimana fa ma non vincere domani a Verona significa rimettere tutto in discussione per quello che vi dico non voglio parlare di svolta di svolta parleremo poi eventualmente un giorno quando sarà oggi parliamo di squadra che ha bisogno di vincere domani a Verona e che ha tutto da perdere domani a Verona perché Lella ha tutto da guadagnarci diversamente da noi di svolta